Il miracolo di San Calogero, di Fabio Fabiano. Legge Fabio Fabiano. Capitolo terzo. I primi adempimenti. Non ci sono al momento sospettati, affermò Di Falco. Ok, vado a lavorare. Ci vediamo dopo, disse Caruso, allontanandosi. Il poliziotto e la scientifica si concedò da lui e con i suoi ragazzi si diresse verso l'auto del morto. Lavorarono come al solito, con criterio, senza trascurare nulla. Cominciarono con lo svuotare i cassonetti della spazzatura all'intorno alla ricerca di eventuali prove e finirono con repertare anche il più piccolo ed apparentemente insignificante degli indizi. Un frammento d'unchia. Fotografarono e filmarono la scena. Verificarono tutto. L'attività durò almeno cinque ore e dopo i primi accertamenti e la traslazione del cadavere portarono l'auto nella loro rimessa per ulteriori ricerche. Il loro era un lavoro scrupoloso, da svolgere con calma e riflessione. Vi era una regola che i poliziotti della scientifica seguivano sempre. Chiedersi il perché delle cose. Formulavano perciò delle ipotesi per passare poi alla loro verifica o alla loro smentita. Un lavoro che Di Falco riteneva non avrebbe mai potuto fare. Poi col computer lui ci litigava. Dopo qualche ora giunse il medico legale. Sul momento non si pronunziò, ma poi ipotizzò che il decesso fosse avvenuto tra le 22.30 e le 23. Attesi che la scientifica finisse i suoi rilievi e diede già per l'indomani la disponibilità all'autopsia. Il magistrato diede il suo placet. La nottata finì come iniziava di solito ogni giornata, con una colazione al bar vicino alla piazza del mercato. A differenza degli altri giorni, però, questa volta era ospite dell'ispettore di Falco il pubblico ministero, più bello della procura. Davanti a un cappuccino e a un cornetto sembrava tutto meno triste. Soprattutto quando la fame ti attanagliava con i suoi morsi. Diceva un antico proverbio siciliano «Panza china, panza climenti! Panza vacanti, nenti perduna!» E citando quel proverbio, di Falco aveva trovato la scusa per invitare la giovane magistrata a fare colazioni assieme. Cercava ancora di farsi perdonare la brutta levataccia a cui l'aveva costretta. Seduti al tavolo non parlarono del caso. Dentro il locale troppe orecchie potevano ascoltare. Perciò rispettarono la regola del buon poliziotto, la quale consigliava «bocca chiusa, orecchie e occhi aperti, mani in tasca». Obedienti alla regola consumarono in silenzio la loro colazione. Intorno a loro, gli altri avventori commentavano la notizia del giorno. La straordinaria vincita al totocalcio, la cui giocata era stata fatta proprio in quel bar. Si formulavano mille ipotesi su cui avesse compilato la schedina vincente. I più prudenti sostenevano che il premio era troppo alto. I più ottimisti dicevano che avrebbe cambiato totalmente la vita del fortunato vincitore. I più saggi sottolineavano come quel cambiamento potesse non essere positivo, citando molti aneddoti a supporto delle loro tesi. Per i più, invece, quelle erano sonore cazzate. Il 70% dei presenti aveva ancora il mutuo della casa da pagare o il debito della finanziaria da estinguere. Di Falco si limitava a pensare che in una notte una famiglia aveva perso tutto, mentre un'altra, adesso, aveva soldi anche per le generazioni a venire. Consumata la colazione e salutata la dottoressa Bottino, l'ispettore tornò al suo posto di lavoro. In commissariato, Di Falco informò il suo capo di ciò che era accaduto e pensò di far uscire la notizia sui giornali, per mettere alle strette l'assassino. Avrebbero potuto sottolineare come il responsabile dell'omicidio avesse le ore contate, dicendo di avere già dei precisi sospetti. Classica notizia da dare ai giornali quando lo si aveva nulla o quasi tra le mani, con la consapevolezza che l'omicida potesse spaventarsi e commettere qualche errore o, sententosi braccato, decidere addirittura di costituirsi. Il secondo impegno della giornata fu la preparazione di un rapporto per il pubblico ministero. Con l'occasione chiese l'autorizzazione a controllare il traffico telefonico della vittima, sia del cellulare, che era stato trovato nella tasca dei suoi pantaloni, sia dell'utenza fissa dell'abitazione. Se frequentava una donna, probabilmente prima del delitto, si erano sentiti telefonicamente per fissare un appuntamento. La mattinata trascorse tra mille impegni. Dopo pranzo, vinto dalla stanchezza e dal sonno, arretrato di Falco decise di rilassarsi ascoltando un po' di buona musica. Quella era uno dei piaceri della vita, di cui non poteva fare a meno. E poi lui era convinto che la musica di B.B. King, o di Ray Charles, o di qualche altro soulman, producesse delle onde sonore che armonizzavano con quelle intellettive. Pertanto, indossò la cuffia, accese il player, caricò una playlist di sua creazione e vai. Le onde sonore mentali navigavano sulla stessa lunghezza d'onda. La mente finì col tornare alle ultime indagini in corso. Come poteva non pensare all'omicidio di quel giovane ragazzo? Salvatore Zuppardo era abbastanza conosciuto in città, perché era il fattolino del negozio di fiori gestito dallo zio. Il padre, che era morto quando lui aveva cinque anni, era stato una delle ultime vittime delle miniere di Zolfo. Nonostante la giovanissima età, perciò la madre si era vista costretta a mandarlo a guadagnare qualcosa da quel parente non proprio generoso. Quando fu cresciuto, ed ebbe preso la patente, lo si vedeva in occasione dei funerali, precedere con una moto ape il carro furebre per trasportare le corone di fiori al cimitero. Il suo giorno preferito era la doberica, quando si recava al campo sportivo comunale di prima mattina per aiutare il custode alla manutenzione. Passava la mattinata a squadrare il campo da gioco, mentre gli sfaccendati, che andavano allo stadio, lo prendevano in ciro, accusandolo di tracciare linee di gioco storte. Lui non mancava di rispondere a tono. I riferimenti riguardo alla lunghezza e alle dimensioni delle linee spesso erano rapportati alle gambe delle mogli o delle figlie di chi lo sfotteva. Salvatore Zuppardo era uno spasso per tutti. Si prestava anche come raccattapalle durante le partite della squadra locale e la domenica era sempre con una radiocuffia attaccata alle orecchie e la schedina in mano per seguire i risultati. Quando segnava la sua Juve, se ne accorgevano tutti, perché per la gioia Salvatore iniziava a saltare e a ballare. In verità anche l'ispettore si era affezionato a quel ragazzo molto rispettoso e quando c'era qualche tifoso da diffidare era sempre pronto a dare una mano. Per guadagnare qualcosa, a fine partita, si occupava anche di pulire gli spogliatoi. Era un bravo ragazzo ed era grazie a lui che la madre e la sorella avevano potuto contare su un piccolo reddito per il proprio sostentamento. Una famiglia messa in cinocchio adesso!